Mi chiamo Angela e ho 47 anni e vengo da Milano. Ho visto su Facebook SS Dentale e siamo venuti con mio marito. Abbiamo fatto il biglietto e siamo venuti e abbiamo visto vari video prima di venire. Quando siamo arrivati siamo state accolte benissimo dalla parte logistica che dal centro e ci hanno fatto subito l'attacca, ci hanno spiegato qual era il mio problema e i vari denti che dovevo andare a mettere. I denti li ho cominciato ad andare dai vari dentisti, ognuno mi ha dato una sua motivazione, ognuno mi ha curato a modo suo e man mano che andava avanti il tempo si rompeva, chi si staccava ogni due per tre. Poi l'ultimo ho fatto due impianti in Italia, me l'ha fatto un dentista alla quale mi cadevano in continuazione e quando siamo arrivati qua infatti l'hanno visti e potevano andare bene. Poi andando avanti, nei provvisori era tutto a posto. Poi andando avanti, che sono venuti poi per i definitivi, hanno visto che non andavano bene. Uno si muoveva, un altro ruotava su se stesso. Adesso i definitivi. L'ho messo ieri sera, va benissimo. Ho mangiato. consiglio di venire a vedere e provare. Mi sono tratta benissimo. Mi hanno assistito in tutto. Anche nella casa ci hanno accolto, ci hanno portato in giro. Abbiamo avuto sì divertimento che per quanto riguarda il problema dei denti. Abbiamo trovato tante persone, consiglio di venire in Moldavia e provare. Un po' tutto perché un po' assomiglia un po' all'Italia perché tante cose sono, tanti prodotti sono italiani. Anche la tradizione, un modo come si vive semplice, tante cose. Anche il mangiare è un'altra cultura. Però è stata una bella esperienza. Con me sono venuti in questa volta i miei figli e anche allora è piaciuto la Moldavia. città. Abbiamo visto la cantina, abbiamo visto il museo, ci sono dei grandi centri commerciali. Ti puoi muovere anche se sei in un paese che tutti quanti hanno paura, magari in un paese straniero, ma comunque piano piano ti capiscono perché andiamo per i negozi da soli. La gente del posto ci capisce, siamo andate a mangiare fuori. È stata una bella esperienza. E più i denti vanno benissimo. Grazie.